Guido Roberti, più di qualche assenza nella Triestina, però comunque tanta fatica per battere un modestissimo Ravenna. La possibilità di cambiare anche in corsa sia in termini effettivi che sull'assetto tattico e dunque anche oggi un po' inventate alcune situazioni con l'utilizzo ancora di Gomez sacrificato esterno, però la Triestina ha mantenuto bene il campo, soprattutto nel secondo tempo perché in assenza di cambi non era facile tenere per 90 minuti ritmi alti. La Triestina fino al gol del 2-1 e per alcuni minuti seguenti ha tenuto un buon ritmo, soprattutto aggredivi e portatori di palla. Ci sono certamente delle lacune perché la disattenzione del primo gol farà riflettere l'allenatore, ma ci sono anche punti indubbiamente da prendere come spunto positivo. La Triestina nell'ultimo anno faticava sempre quando passava in svantaggio, questa volta è riuscita a pareggiarla e a vincere, questo credo sia un buon segnale. Per quanto riguarda i singoli, molto bene Calvano, mi è piaciuto veramente tantissimo, era presente, copriva bene il campo, credo che assieme a Rizzo hanno formato una cerniera perfetta per favorire anche poi il gioco di Lodi che non fa sicuramente della velocità e dello sprint le sue qualità. Quindi molto bene Calvano, il migliore in campo, assieme a Litteri che con due bellissimi gol ha deciso questa partita. Ora la Triestina ha un imperativo, quello di confermarsi a Pesaro, proprio perché se vogliamo dimostrare di essere una squadra d'alta classifica, la Serie C è continuità. Quindi a Pesaro si va per portare un risultato positivo, possibilmente una vittoria. Dunque promossi nel complesso tutti i singoli e la reazione della Triestina ha lo svantaggio.